In un racconto di Guido Maupassant che ho appena postato si racconta la storia di una vecchia attrice, diventata ormai vecchia e prima una donna che aveva avuto un grandissimo successo e anche due grandi amori nella sua vita che le avevano dato molte gioie. Il narratore, l'io narrante di questo racconto, a un certo punto le chiede le gioie maggiori, la felicità vera, ve le ha date il teatro? Si trattava di una vecchia attrice di teatro. E lei risponde, è decisa, oh no! Alza lo sguardo verso un quadro dove c'era lei con i due amanti che aveva avuto, insomma con i due amori della sua vita che aveva avuto e indica col dito e dice loro. Partire da qua per una breve riflessione. Sui consigli che abbiamo, sui consigli che abbiamo poi anche spesso qui su Youtube, soprattutto dai filosofi del tubo, che spesso ci dicono fate come ho fatto io, vi do la chiave della felicità, del successo, bisogna fare così, bisogna fare così nella vita, insomma. La filosofia serve per capire la vita, quindi come ci si deve comportare, quali sono le cose migliori da fare e quindi come raggiungere. E spesso, da quello che io capisco, si confonde il successo nella vita, insomma, riuscire con la felicità. E allora volevo discutere un po' su questi due termini, felicità e successo, e anche su cosa significa seguire poi le ricette che qualcun altro ti dà, i consigli per gli acquisti, in questo caso per l'acquisto della felicità o per l'acquisto del successo. Spesso più l'acquisto del successo che non l'acquisto della felicità, oppure di tutti e due pensando che le cose vadano insieme. Allora mi viene in mente come in realtà la vita sia sempre più sfuggente rispetto ai tentativi che facciamo in Pering per inquadrarla, no? Mi viene in mente un episodio, insomma, di una volta che mi sono trovato a un'occasione di festeggiamento che abbiamo avuto, insomma, con i figli miei, con le loro compagne e con la madre dei miei figli. E ci siamo trovati e lei aveva seguito una ricetta per fare un dolce, insomma, no? E a un certo punto, arrivati alla fine del pranzo, da questa crostata, era una crostata, mi pare, una cosa così, da tagliare a mia nipote, insomma, che ha 11 anni, 12 anni. E lui, lei prova col coltello così, insomma, e non ci riesce, allora fa un po' più forza e non ci riesce. Allora il padre dice, ma insomma, cosa vuoi, insomma, prova anche lui e non ci riesce, insomma, no? Poi alla fine provano tutti, insomma, e questa crostata è diventata una cosa talmente dura che, insomma, si è riuscita a tagliare soltanto battendo con un martello sopra il coltello appoggiato sulla crostata. Poi, insomma, è diventata una cosa talmente dura che era immanzabile, insomma, per tutti. Ma così anche un po' nel campo della medicina, no? Che il campo... tutto dice che quel farmaco deve funzionare, no? Tutte le cose così, tu dai quel farmaco a quel paziente e in realtà non succede quello che ti aspetti. Anzi, spesso non succede mai, a volte succede qualcosa di diverso da quello che ti aspetti. Ed è invece diventato anche il modo di funzionare attraverso i protocolli. E forse questo è anche uno dei motivi, no? Per cui la medicina poi non funziona più tanto bene, no? Se si pensa di poter prescindere, no? Dalla storia individuale, dalla fatica di raccogliere tutte le particolarità di quel paziente, di quell'individuo, no? Quindi di capirlo. Questo richiede un lavoro, richiede un andare a fondo, richiede parlarsi a lungo, richiede perdere tempo, no? Cosa che è diventata quasi un tabù, insomma, perdere tempo al giorno d'oggi, in momento in cui il tempo è così, sembra che tutti non ne hanno, poi chissà cosa se ne fanno del tempo. E allora non si perde più tempo a raccogliere, ascoltare il paziente, ascoltare i parenti, insomma, a mettere insieme tutti gli elementi, tutta l'anamnesi che una volta si raccoglieva anche con cura, no? E si applicano i protocolli, insomma, è questo, questo e questo e questo. Poi in realtà, insomma, spesso questi protocolli non funzionano come si pensa, come dovrebbero. E soprattutto la gente è scontenta. La medicina, se noi ci chiediamo, abbiamo tutti la sensazione che in realtà sia diventata, sia peggiorata, insomma, sia diventato un ambiente in cui ci sentiamo estranei, spesso ci sentiamo usati, insomma, non ci sentiamo più accolti e contenti di quel servizio, non dico tutti, insomma, ma molti. È un'esperienza comune come ci siamo disorientati da questo modo di fare medicina, insomma, no? Che non si rivolge più a quel paziente particolare con le attenzioni legate a quel paziente particolare, ma a quel paziente si applica un protocollo. Lo bisogna fare così, in quei casi si fa così, ecco, queste sono le regole, facciamo così. Ecco, questo, quindi quando si cerca di applicare un protocollo, una ricetta, no? Quando si danno questi consigli anche in rete, insomma, su YouTube, insomma, no? I vari filosofi, insomma, del tubo, si ha la sensazione che in realtà sia sempre un attimo più in là, come diceva anche una vecchia canzone di Giorgio Gabber, ma sempre attuale, no? La realtà è più in là. Questa realtà facciamo sempre fatica a conoscerla, perché poi, insomma, i filosofi non hanno un unico punto di vista, per fortuna, sulla realtà. E la complessità ci governa, la complessità difficilmente si lascia incastrare, si lascia irrigidire in norma i consigli di comportamento, che quando li ascolti sembrano così, no? Sei così chiari, così semplici, insomma, è così, è facile, anch'io, no? Però poi, nella pratica, non è così, perché tante cose agiscono dentro di noi, tante cose ci governano. E da questo punto di vista io penso che lo sguardo psicanalitico sia uno sguardo che ci aiuta molto a indagare sulla nostra realtà, sulla nostra condizione, su questa complessità. E allora, da questo punto di vista, diciamo così, ho molta stima proprio per un'attività da divulgatore che è su YouTube, ma che non divulga su YouTube, nel senso che lui fa le sue conferenze altrove, per Massimo Recalcati, insomma, il quale, secondo me, ha compiuto, sta compiendo, una grande opera di divulgazione della psicanalisi, partendo anche dal presupposto che la psicanalisi non sia soltanto una tecnica riservata, diciamo, agli esperti, agli addetti ai lavori, ma, diciamo, facendolo uno strumento di divulgazione su quella che è la vita, di comprensione dell'origine dei vari aspetti della vita, delle varie difficoltà che la vita incontra per essere una vita degna di essere vissuta, insomma, no? E quindi una indagine, secondo me, importante. Prendere di mira gli aspetti fondamentali da cui si muove. E lui poi, direttamente, insomma, fa anche questa azione, insomma, no? Di avere divulgato, come dire, di essere questo divulgatore del pensiero di Lacan, insomma, no? Quindi di non partire da un punto di vista suo proprio, ma, insomma, di avere un maestro, cioè un faro che illumina, che poi, diciamo, si è dimostrato essere il faro che, alla luce di uno sguardo più generale sulla psicanalisi, insomma, diciamo, è la persona che più dà degli strumenti e che più ha permesso di riattualizzare, anche in epoca moderna, la psicanalisi, insomma, no? Quindi è riuscito a divulgare l'opera di quello che è stato lo psicanalista più significativo, e anche lo psichiatra, perché mi pare che Lacan è nato come psichiatra, e quindi a riattualizzare, insomma, il suo pensiero, ma riattualizzandolo poi nella pratica clinica. Ecco, questa è l'importanza, insomma, è quello di, come dire, di non essere un pensiero teorico, ma è un pensiero che nasce da un'applicazione clinica. È un pensiero che nasce dall'osservazione degli effetti di questo pensiero quando lo si applica ai casi clinici, quando lo si applica agli esseri umani nella loro realtà di vita. Bene, al di là della digressione, allora, insomma, in genere si fallisce quando si cerca di applicare un principio o delle leggi semplici, insomma, dei consigli, insomma, no, di vita a una realtà complessa degli individui che non si conoscono, quindi di generalizzarli, come si fa quando generalizziamo facendo un discorso qui, come sto facendo io in questo momento davanti a una telecamera. Come dice la protagonista di questo racconto che vi citavo all'inizio, il successo nella vita non è la felicità, insomma, no, distinguiamo, proviamo a vedere, a fare una distinzione tra questi due concetti che vengono spesso confusi, soprattutto in epoca contemporanea, no? E' successo e cosa significa poi essere felici, insomma, no? Felicità è un termine un po' grosso, io non sono molto d'accordo, ma significa avere, diciamo, una vita piena, no? Avere una vita che è piena di vita, insomma, no? Essere vitali. Intanto, avere successo significa entrare in una mentalità competitiva. Il successo lo ottieni perché prevali sugli altri, ormai c'è molta competizione per il successo, metti in campo le tue doti, certo, quindi devi avere delle doti, spesso queste doti ce le hai per un dono, non tanto perché te le sei costruite, ma c'è un dono, ma c'è anche poi questo lavoro personale, però il successo lo ottieni quando con la fatica personale, mettendo a frutto le doti che hai, riesci a fare il vuoto intorno a te, insomma, riesci ad affermarti il suo scapito di altri, perché avere successo non è arrivare tutti alla stessa meta, ma è che qualcuno arrivi a delle mete a cui altri non riescono ad arrivare, quindi essere vincente in una competizione che continuamente è sempre più serrata, soprattutto in epoca contemporanea, no? Sempre più si è portati a competere, a cercare di rivolgersi in tanti verso lo stesso obiettivo, che però, insomma, alla fine il traguardo, il podio è soltanto per pochi, no? Raggiungere il successo prevede di essere vincenti, quindi prevede di arrivare primi in una gara, in una competizione, quindi mettersi l'uno contro l'altro. È una cosa diversa rispetto al fatto di raggiungere, diciamo, di essere felici, di avere una vita piena, insomma, no? Avere una vita piena, piena nel senso di riuscire a vivere bene, insomma, vuol dire invece essere capaci di, come la protagonista, essere capaci di amore, essere capaci di stabilire con gli altri una relazione significativa, significa riconoscere che le proprie radici sono, che non esistiamo da soli, che non ci siamo fatti da soli, che abbiamo bisogno dell'altro, che il nostro io si è costituito sullo specchio dell'altro e che quindi quello che noi siamo, quello che abbiamo, lo dobbiamo all'altro. Adesso ci sono gli altri, insomma, sarebbe lungo, non voglio mettermi a parlare del ruolo dei genitori, dei parenti, degli altri in senso generico e così via, ma insomma dell'importanza dell'altro e quindi dell'importanza che il senso che possiamo avere nella nostra vita dipende dalla capacità che abbiamo di fare, di essere un dono per gli altri, no? Cioè di rivolgerci agli altri. Senza gli altri noi non esistiamo e la nostra vita non ha senso, la nostra vita acquista un senso nel momento in cui riconosciamo l'altro, nel momento in cui la nostra vita si rivolge all'altro. Allora è una cosa completamente diversa, cioè sono due piani opposti, insomma, no? Quello del... infatti adesso non so, mi vengono in mente, mi vengono in mente per esempio le fiabbe di Oscar Wilde, no? Pensiamo al principe Felice, no? Pensiamo all'usignolo e la rosa, no? Quando la vita acquista ha un senso e il personaggio principale in questo caso è l'usignolo per esempio, no? Che riesce a... come dire, che sacrifica la sua vita per fare dono della rosa al principe, no? Che poi viene sprecata dalla bella del principe. Riconosciamo, riesce a commuoversi quella fiaba quando... quando ci fa capire che il dono di un essere che arriva anche al sacrificio della propria vita per un altro essere è la cosa che... che dà senso a quella vita, no? Dà senso fino a far rinunciare alla vita pur di avere un senso. L'avere successo può dipendere anche da noi, dalle regole che seguiamo, possiamo essere aiutati ad avere successo attraverso consigli, attraverso... e conosciamo, no? Quanti libri vogliono educarti ad essere un uomo di successo, no? Quante strategie si cercano di mettere insieme, di combinare per portare al successo. Ricette che poi spesso magari falliscono perché... perché vengono... o perché chi cerca di mettere in pratica magari è l'individuo sbagliato, che non ha... che non ha i requisiti per arrivare al successo, ma il successo poi, come dice la protagonista del racconto, non porta alla fine... non è che una volta che hai raggiunto il successo vivi meglio o sei felice, no? Magari puoi anche vivere meglio, magari hai tu quattrini, puoi vivere meglio in un certo modo. eh... ma... ma non sei felice, insomma, non ha detto che avere più quattrini ti porta a essere più felice. La felicità, cioè la vita piena, insomma, no? È la vita che acquista un senso, e il senso non lo trovi, ripeto, al di fuori del dono che puoi fare all'altro. Pensiamo anche al piccolo principe, no? Alla necessità poi di... di ricongiungersi alla rosa che aveva lasciato nel suo pianetino d'origine, no? Ecco, la necessità, una volta conosciuta la vita, eccetera, eccetera, è quella poi di... come dire, di sentirsi responsabili, responsabili dell'altro, responsabili... e quindi di fare... pensare alla propria vita come il luogo dove si attua la responsabilità che abbiamo nei confronti dell'altro, o di quegli altri nei confronti dei quali sentiamo il bisogno di dedicare la nostra attenzione, insomma, le nostre cure, no? Vita che abbia un senso è una vita che comunque è rivolta all'altra, che prevede, come direi, dei rapporti di contiguità, sono l'opposto dei rapporti di contrapposizione, di concorrenza, di rivalità, che sono quelli che poi ti portano a cercare di raggiungere il successo, no? Spesso lo vediamo, no? Anche in politica cosa succede con la demonizzazione dell'avversario, no? Per raggiungere il successo, per essere primi, magari nella competizione elettorale. Ed è, secondo me, l'opposto di quello che è e devono essere i consigli per la felicità, che non possono prescindere invece dalla considerazione che dobbiamo avere dell'altro e quindi nel mettersi in discussione su come possiamo agire la nostra vita pensando che la nostra vita acquisti senso nel mettersi in una comunicazione con l'altro, che non può prescindere da un rapporto di riconoscimento e da un rapporto di amore, che è il contrario evidentemente della rivalità, della competizione insomma, no? Per concludere analizziamo bene insomma i messaggi, cerchiamo di capire cosa possiamo desiderare nella nostra vita e rendersi conto che felicità, il vivere bene, l'aspirazione alla felicità non si può realizzare se non attraverso l'aspirazione a un senso da dare alla nostra vita, il senso da dare alla nostra vita non può prescindere dalla necessità di legami d'amore, nel prendersi cura dell'altro, dal volere il bene dell'altro, dall'essere capaci di metterci in secondo piano rispetto a quello che desideriamo come felicità per l'altro, quindi anche di essere capaci di un sacrificio personale, che abbia però un fine, un fine nobile secondo me, insomma, no? Come quello dell'andare verso l'altro, insomma, di cercare, perché nella felicità dell'altro troviamo anche la nostra felicità, siamo contenti se l'altro è contento, non possiamo essere contenti nel momento in cui facciamo scontento un altro, questo succede quando invece tendiamo al successo, quando tendiamo all'essere vincitori, insomma, no? Quando la nostra vittoria significa automaticamente la sconfitta dell'altro. Ecco, volevo distinguere questi due piani perché rischiamo di fare confusione quando li pensiamo come una stessa identica cosa. Un saluto a tutti.